Stefano Bartezaghi, Anteprime 2011, Pietrasanta. Intanto benvenuto, poi subito con la prima domanda. Il tuo libro preferito? Beh, è come chiedere se uno preferisce la mamma o il papà. Sono veramente tanti. Se uno dice Nabokov, sta mettendo Nabokov sopra alla Bibbia. Quindi, insomma, io direi che comunque sì, Lolita di Nabokov è un libro conosciuto per tanti aspetti che sono secondari, ma si avvicina a essere uno dei miei possibili libri preferiti. E il tuo personaggio letterario preferito? Eh, anche qui, insomma, ci sono varie possibilità. Uno vorrebbe essere stato, non so, amico di Holiday Goliath o cose del genere, però devo dire che qui e oggi, essendo appunto in Italia, lavorando sull'italiano, direi Don Gonzalo Pirobutirro della Cognizione del Dolore di Garda. Un passaggio che ti ha emozionato particolarmente in un libro che hai letto? Allora, penso che l'inizio e il finale di Infinite Jest di David Foster Wallace, nella loro, anche difficoltà, nella loro stranezza, siano alcune delle, due delle scene più scintillanti della letteratura contemporanea. Che ricerche fai per costruire poi un tuo libro? Ma le ricerche, appunto, ho scritto libri anche molto, molto diversi. Ho scritto dei libri di storia, del cruciverba, in cui appunto ho dovuto fare quelle cose tradizionali, e di immergermi in biblioteche, trovando le biblioteche giuste, perché non molti conservano i cruciverba. Io ce l'avevo a tutti, potevi chiedere a me. Ecco, ecco, averti conosciuto prima. Poi, però, io scrivo anche dei libri sul linguaggio, e quindi direi che le ricerche principali sono quelle che faccio con un taccuino in tasca, e, per esempio, prendendo appunti dalle vetrine delle agenzie immobiliari, che usano sempre un linguaggio su cui io scrivo articoli, libri, quei modi che usa la gente quando deve vendere le case. Questo mi ha fatto ridere. Hai cinque libri preferiti? Preferiti rispetto a tutti gli altri, insomma, quelli che ho menzionato finora sono... Ce li facciamo bastare? Beh, no, non bastano, però sono tra i miei top, appunto. Lolita o Ada di Nabokov, La Cognizione del Dolore di Gada o la Dalgisa, Snobbando il pasticciaccio, Infinigest di David Foster Wallace tra i recentissimi, tra i classici, direi, Tristan Shandy, e non dimenticherei il Corso Linguistico Generale di Ferdinand de Sossur, che è un libro molto importante. Ma il primo libro che letti in assoluto? Allora, nella selva di quei libri che si leggono da bambini, Pinocchio, il primo a cui proprio mi sono affezionato tanto da continuare a leggere, erano i libri della saga del Dottor Dolittle. Ecco, di questo veterinario naturalista che parlava il linguaggio degli animali, mi ha affascinato, e forse appunto questa idea di linguaggi ineffabili, poi mi ha segnato, però poi di quello mi occupo nella vita. E qualcosa sul libro che stai per far uscire? Il libro che sto per far uscire, in realtà ce ne sono due. Uno che esce adesso, estivo, che si chiama Sedia Sdraio, e sono giochi da fare a mente, sulla sedia sdraio, senza parlare con nessuno, senza bisogno di materiali. E poi appunto un libro sulla nostra lingua, sul modo in cui lo usiamo, che si intitolerà Come dire, e che insomma sto finendo di scrivere in questo momento. Abbiamo finito, grazie mille. Grazie a voi.